Musica Clemente Mastella ringrazia tutti per la vicinanza ai messaggi di solidarietà dopo aver ricevuto minacce di morte in una lettera minatoria recapitata in comune Roghi agricoli in Irpinia e i carabinieri forestali denunciano tre persone Lavoratori campani in attesa, nessuno spiraio dalla riunione al Mise sulla ripartenza del sito industriale ex Irisbus di Flumeri Sassuolo arriva al Sanità Brignola, ceduti in prestito Ricci e Bandinelli al Benevento L'Avelino Calcio ruola un legale, tifoseria è città in attesa a tempi stretti per fare ricorso al Tar Musica Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV lo abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni ringrazio a tutti per la vicinanza mentre le indagini vanno avanti il sindaco di Benevento Clemente Mastella risponde alle attestazioni di solidarietà ricevute dopo le minacce contenute in una lettera che gli è stata recapitata in municipio Sentiamo Ringrazio tutte le forze politiche e sindacali che mi hanno espresso la loro solidarietà ringrazio altresì i cittadini che mi hanno manifestato sostegno e vicinanza umana è quanto dichiara il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo aver ricevuto minacce di morte in una lettera minatoria è recapitata in comune sulla quale sta indagando la polizia di in particolare la digos della questura di Benevento retta da Giuseppe Bellassai Poche ore dalla diffusione della notizia al primo cittadino sono arrivati messaggi, commenti e attestazioni di solidarietà dall'intero mondo politico beneventano e non soltanto, un segnale importante di totale repulsione per ogni forma di intimidazione e violenza che purtroppo è presente nella società Il sindaco del capoluogo non è mai apparso spaventato ha parlato di clima che si è fatto irrespirabile in città, di veleni sparsi ma che lui non ha nulla da temere e d'altra parte il riferimento al cimitero verde è stranio il comune da ogni forma di coinvolgimento in fatto di appalti perché fuori dalle commissioni di gara e quindi non si comprende il perché gli estensori della lettera abbiano fatto riferimento proprio al cimitero laddove invece ci sarebbero altre circostanze nelle quali invece Mastella è maggiormente impegnato eppure coinvolto e sarebbe stato più plausibile un riferimento a quelle vicistitudini Ora è tempo di indagini e gli inquirenti sono al lavoro dovranno stabilire se si è trattato di una bravata oppure di un fatto su cui procedere con maggiore circospezione Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di Salvatore Scappaticcio 36 anni di Castello di Cisterna e di Mario Ischero, 51 attualmente detenuto per altri reati i due sono stati individuati come l'esecutore materiale e l'autista della macchina dell'omicidio di Corrado Nunneri avvenuto il 22 gennaio del 2011 a Castello di Cisterna nello scontro allora in essere tra le fazioni che si contendevano il controllo delle piazze di spaccio nella zona di Castello di Cisterna ed in particolare della zona della Cisternina omicidio e porto abusivo di arma da fuoco commessi con l'aggravante delle finalità mafiose e le accuse nei confronti dei due Nuovi crolli a Sant'Antimo in via Padre Antonino all'altezza del Civico 10 già interessato lunedì scorso dall'apertura di una vistosa voragine ad accorgersi del nuovo cedimento gli uomini della protezione civile già presidio dell'edificio che sorge in una zona centrale della cittadina aria sovrastante diverse cavità tuface già a novembre scorso si verificò il crollo di una palazzina circa un centinaio tra gli edifici sgomberati in via Giannangeli e in via Padre Antonino gli sfollati due uomini e una donna sono stati ritenuti denunciati quindi responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e accaduto in Irpinia il servizio I carabinieri sono intervenuti per un fastidioso fumo particolarmente denso e acre che rendeva l'aria irrespirabile grazie all'approfondita conoscenza del territorio e delle realtà locali i militari della stazione forestale di Forino sono riusciti ad identificare i responsabili che nonostante il divieto di bruciatura nell'attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla regione Campania erano intenti alla combustione di residui vegetali derivanti dalla lavorazione di fondi agricoli sul posto i militari operanti hanno rinvenuto diversi cumuli alcuni ancora fumanti composti da fogliame e rametti deferiti dunque alla competente autorità giudiziaria due uomini e una donna ritenuti responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata tale condotta in particolare riscontrata durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi oltre ad essere particolarmente pericolosa provoca un evidente senso di fastidio e molestia alle persone per l'alta concentrazione di fumo nell'aria alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti per i tre soggetti scattati da denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino e la sanzione amministrativa per inosservanza dell'ordinanza emessa dal comune di Montoro tesa alla prevenzione degli incendi boschivi dopo il rogo di Caivano i cittadini si mobilitano critiche al governatore della campagna che sminuisce distrutto dalle fiamme un sito di stoccaggio rifiuti il quarto in regione negli ultimi due mesi ancora rischi per la salute sentiamo a distanza di quasi una settimana dal maxi incendio scoppiato lo scorso 25 luglio nell'impianto di recupero di rifiuti di località Pescarola Caivano in provincia di Napoli i dati relativi alle diossine ai furani rilevati dall'ARPAC nell'area della zona sono al di sotto dei valori di riferimento l'agenzia ha eseguito rilevazioni nei giorni 27 28 29 e 30 luglio anche nei pressi del centro commerciale di Marcianise anche qui la situazione è risultata nella normalità sono comunque in corso altri monitoraggi rende noto l'ARPAC i cui risultati appena disponibili saranno resi noti intanto è andato in fiamme un sito di stoccaggio dei rifiuti il quarto in due mesi in campania tanto quanto basta per creare allarme tra le popolazioni è di qualche giorno fa infatti anche una manifestazione per dire basta ai roghi armati di fischietti e striscioni i popoli della terra dei fuochi si sono radunati a Caivano nell'ultimo giorno di luglio tutto è partito dalla rete attraverso i social cittadini attivisti dei comitati hanno in poco tempo coinvolto gli abitanti di Caivano e degli altri comuni dell'agroversano in un corteo che si è snodato per le vie della città campana tanta la paura tra la gente dopo il devastante incendio che ha colpito mercoledì scorso la di Gennaro SPA spargendo la sua nube nera sui cieli delle province di Napoli e di Caserta secondo il comitato Stop Biocidio la rete dei comitati della terra dei fuochi questi roghi arregano danno alla salute dei cittadini eppure secondo l'ARPAC è tutto ok Irpini ancora in attesa operai al palo ancora nessuno spilaglio sul piano industriale del polo nazionale degli autobus fumata nera dal Ministero dello Sviluppo Economico e il servizio nessun passo in avanti massimo riservo Irpini è in attesa almeno secondo quanto riportato dal Vice Capo di Gabinetto Saria sul fronte dei nuovi assetti societari nessuna novità dunque dal Mise anche dopo l'ennesimo confronto a Roma il futuro di industria italiana autobus resta un rebus fumata nera dal Ministero dello Sviluppo Economico al termine di un confronto dal quale sarebbero dovute emergere novità rilevanti sul piano industriale del polo nazionale degli autobus Invitalia e Finmeccanica dovrebbero far parte della seconda fase mentre sembra tornata in discussione la posizione di Valerio Gruppioni e del gruppo Sira il suo ingresso nel capitale di IIA è solo un'ipotesi non ancora definito neanche il ruolo che avrà Stefano Del Rosso in futuro insomma gli equilibri tra le parti pubbliche e private coinvolte nell'operazione sembrano ancora tutti da definire procede purtroppo a rilento la ricerca di una soluzione per l'industria italiana autobus e la situazione pare prendere una piega più confusa e rischiosa di quanto era lecito aspettarsi dopo le dichiarazioni rese dal vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio durante l'ultimo incontro precisa Gianluca Ficco segretario nazionale Wilm responsabile del settore auto al termine dell'incontro che si è tenuto al ministero dello sviluppo economico a fine anno scadrà la cassa integrazione e il sindacato chiede una proroga degli ammortizzatori sociali un bene confiscato al clan Capasso consegnato alla città salernitana di Scafati associazioni se ne prenderanno cura e vi attiveranno attività sentiamo dopo 26 anni ovvero dalla confisca degli anni 90 il bene del clan Galasso torna alla città di Scafati e viene affidato ad un'associazione che darà luogo in quello che fu il fortino della malavita ad un nuovo presidio di legalità è uno spazio di 11.000 ettari vicinissimo all'attuale caserma della finanza della compagnia di Scafati un terreno in cui si coltiva il cipollotto DOP dell'agro Sarnese Nocerino sicuramente è stato questo un passo molto importante una delle maggiori e più pressanti priorità che mi sono posto al momento del mio insediamento il percorso è stato difficile ma siamo giunti al risultato che voi tutti oggi vedete è un ripristino della legalità significa ridare alla società civile alla società sana un bene produttivo perché il cipollotto DOP di Scafati è uno dei beni produttivi di questa comunità noi siamo un'associazione di piccoli produttori agricoli vogliamo dare un buon esempio partendo da un terreno che è altamente produttivo oggi abbiamo piantato l'albero della legalità già questo è un simbolo vorremmo che questo terreno fosse un simbolo di riscatto e di rinascita di questo territorio io mi aspetto come il 92 un risveglio sociale della cittadinanza e soprattutto quella cosa che noi siamo capaci come cittadini di questa città è la ripresa reale di questa città della legalità ma soprattutto una ripresa reale di quello che può essere attorno a questo bene una realtà comune questo non è un bene di nessuno è un bene dello Stato e quindi appartiene ai cittadini di Scafati che ne dovranno fare l'utilizzo per rilanciare questo problema che ormai per la seconda volta ci vede commissariati per attività camborristiche mafiose quindi è una cosa molto brutta per questa città che anche la legalità può dare lavoro e può dare lavoro di qualità e io penso che nei prossimi mesi torneremo qui grazie anche al lavoro che è stato fatto dall'Alpa diciamo dal prefetto e dalle istituzioni per dare un segnale nuovo di legalità a questo territorio il caldo e l'AFA hanno raggiunto l'apice ma la protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valido dalle 11 alle 20 di venerdì su tutto il territorio la criticità riguarda il rischio idrogeologico da temporali la protezione civile della regione raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure apte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti blackout città in tilt Nociara Inferiore si ferma per un guasto elettrico immediato all'intervento dei tecnici ma l'attesa per il ripristino è stata molto lunga sentiamo Oltre mezza città al buio migliaia di cittadini ostaggi di un guasto alla rete di distribuzione dell'Enel il primo blackout è scattato la notte scorsa diverse squadre della società elettrica hanno lavorato nelle cabine di distribuzione sparse in città nel frattempo considerati tempi lunghi sono stati fatti arrivare alcuni tir con enormi e potenti gruppi elettrogeni per dare energia sino alla riparazione del guasto il più potente è stato piazzato alle spalle del municipio ha lavorato per l'intera notte ma questa mattina non appena la città si è risvegliata i negozi hanno alzato le saracinesche gli uffici avviati i computer e gli impianti di aria condizionata il gruppo elettrogeno si è fermato per eccessivo assorbimento è andato in tilt l'impianto di raffreddamento del gigantesco motore e gran parte della città è ritornata nel caos o meglio è finita in quella tranquillità quasi sospesa nel tempo che avevamo dimenticato uffici postali e banche chiuse bar salumerie macellerie supermercati impegnati a trovare dei gruppi elettrogeni per cercare di salvare la merce deteriorabile qui siamo ad esempio in una gelateria del centro dove i gelati praticamente non ci sono più sciolti come neve al sole molti negozi non di alimentari sono rimasti chiusi anche perché le saracinesche ormai vanno tutte a motori alimentati elettricamente commercialisti assicurazioni studi medici chiusi e professionisti con le braccia incrociate qualcuno invece ha cercato di utilizzare il tempo dedicandosi alle grandi pulizie come i dipendenti di questo bar e ci si rende conto che ormai senza l'energia elettrica non si può fare assolutamente nulla tranne alcune attività che si possono fare senza l'ausilio dell'energia elettrica siamo alla pagina sportiva il Benevento Calcio saluta il giovane Brignola dal Sassuolo in prestito Ricci e Bandinelli sentiamo i dettagli siglato l'accordo con l'OS Sassuolo Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Enrico Brignola a comunicarlo la stessa società del Benevento Calcio il Sannio abbraccia e saluta con affetto ed emozione un proprio figlio cresciuto e maturato con la società giallorossa che fin dall'inizio ha creduto fortemente nel suo talento nel suo lavoro e nella sua professionalità il sogno della Serie A iniziato lo scorso anno continuerà con la maglia di un'altra squadra ma siamo sicuri che il Benevento Calcio scrive la società in particolare il presidente Oreste Vigorito avranno per sempre un posto speciale nel suo cuore nel contempo il Benevento Calcio rende noto di aver acquisito dal club nero-verde con la formula del prestito le prestazioni sportive del centrocampista Filippo Bandinelli classe 95 e dell'attaccante Federico Ricci classe 94 Bandinelli centrocampista centrale a proda nel zanio dopo l'esperienza perugina della passata stagione con gli Umbri ha collezionato in un solo anno 29 presenze ed un gol di proprietà della società nero-verde sempre in Serie B ha indossato la maglia del Latina totalizzando 38 presenze Federico Ricci è cresciuto nel vivaio della Roma con la primavera giallorossa ha vinto la Coppa Italia di categoria nella stagione 2015-2016 in prestito al Crotone conquista la promozione in Serie A totalizzando 36 presenze 11 gol e 8 assist con la casacca nero-verde del Sassuolo l'attaccante esterno nazionale under 21 ha collezionato 24 presenze e 2 gol Avelino escluso dalla Serie Cadetta tempi strettissimi per la presentazione del ricorso al Tar intanto il legale è stato arruolato e i tifosi sperano il servizio dopo la delusione l'azione è corsa contro il tempo per il ricorso al Tarlaccio che potrà o meno accogliere le rimostranze dell'Avelino Calcio e sospendere la decisione del collegio di garanzia del CONI i tempi sono strettissimi e condizionano essenzialmente due fattori importanti sicuramente gli svincoli ovvero la possibilità per i giocatori di trovare sistemazioni altrove e poi la stesura dei calendari del campionato cadetto fissata per le ore 19 del prossimo 6 agosto l'avvocato Lentini di Salerno che ha avuto mandato dal sodalizio biancoverde avrà dunque pochissimo tempo per preparare il ricorso al Tar e la decisione del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio potrebbe arrivare nel giro di una settimana una volta ricevuto l'incartamento il Tar potrebbe decidere di procedere d'urgenza discutendo la questione al primo appello utile confermare modificare o revocare la sospensiva della decisione del collegio di garanzia del CONI una speranza c'è e il popolo biancoverde tutto si augura che Lentini riesca come due anni fa per la Paganese a far riammettere l'Avellino in serie B intanto nella stagione 2018-2019 Novara e Catania giocheranno in serie B al posto di Bari e Cesena e l'effetto della sentenza della Corte Federale d'Appello che ha respinto i ricorsi di Siena pro Vercelli e Ternana contro la decisione del Tribunale federale nazionale che nei giorni scorsi aveva annullato l'impossibilità di ripescaggio per le società che abbiano manifestato problemi amministrativi nelle stagioni 2015-2016 2016-2017 e 2017-2018 la gradatoria dei ripescaggi lascia però ancora una speranza al Siena il club toscano attende di conoscere proprio l'esito del ricorso al Ter del Lazio dell'Avellino conferito un riconoscimento ai due ballerini napoletani Anna Cartini e Renato Sibillo che hanno conquistato la medaglia d'oro di danza sportiva in categoria senior al campionato del mondo 2018 che si è tenuto in Giappone le interviste è un vittorio emozionante emozionante da piangere in realtà praticamente cinque balli c'è il waltzer lento detto anche waltzer inglese c'è il tango c'è il waltzer viennese c'è lo slow fox e il quick step quinto quarto terzo alla fine siamo rimasti noi e l'ex coppia campione del mondo quelli che erano campioni del mondo dell'anno precedente e quando hanno chiamato il numero del secondo posto insomma siamo scoppiati la gioia c'erano tutti questi giapponesi di una gentilezza unica per cui ci hanno accolto benissimo applaudivano sono stati molto vicini a noi con noi c'era il nostro insegnante il nostro coach Massimiliano Palladino che ha fatto insieme a noi tanti sacrifici per allenarci per con i vari problemi che noi senior abbiamo il dolorino al colo il dolorino alla gamba il dolorino alla schiena però ci ha creduto anche la federazione ci ha fatto tanti complimenti ha messo degli articoli sulla pagina dedicata dove appunto diceva Napoli ancora la campagna insieme al mondo con con un risultato così eclatante ed era questo l'ultimo servizio io vi lascio in compagnia delle presioni del tempo e con il resto della nostra programmazione grazie a voi tutti per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Venerdì 3 agosto. Alta pressione ancora prevalente, tuttavia sarà lievemente instabile al centro-sud e sui rilievi in genere. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o al massimo velato. Col passare delle ore qualche acquazzone di calore sarà possibile sui rilievi e inoltre su ovest-Emilia. Spostiamoci ora al centro. Temporali sparsi ma piuttosto frequenti sulle regioni peninsulari localmente anche di moderata intensità. Meno probabili peraltro sulla Toscana e sulle Marche. Qualche rovescio pomeridiano inoltre sarà possibile sulla Sardegna. Al sud piogge sparse ma frequenti sui settori peninsulari anche forti, più soleggiata, invece la Sicilia. I venti saranno deboli e settentrionali, un po' su tutti i bacini. Concludiamo infine con le temperature che saranno sostanzialmente stazionarie e calde. Le minime saranno infatti comprese tra 16 e 25 gradi su tutto il nostro paese. Durante il giorno invece prevediamo fino a 35 gradi al nord, fino a 34 gradi al centro e picchi di 36 gradi al sud. Grazie.